Allora, per tirare le conclusioni, vorrei da voi, prima di tutto, un commento. La domanda è, ma perché i rivenditori ce l'hanno con voi? Qualche ragione ce l'avranno o no? Avanti, facciamo una carrellata e vediamo chi avete da rispondere. Secondo me i rivenditori non è che ce l'hanno proprio con i produttori, un pochettino. Perché in questo momento qua, secondo il mio punto di vista, è una questione appunto di questo rollercoaster del mercato. E quindi essendoci questo rollercoaster, logicamente i volumi sono meno, i margini stanno diminuendo e quindi cercano di prendere il margine che stanno perdendo da noi produttori. Questo è quello che penso io. Io rappresento il cemento, quindi diciamo che sicuramente questo periodo di aumento prezzi può aver generato un po' di tensione con i rivenditori, però onestamente questo richiamo che è stato fatto stamattina sul rispetto del canale è un richiamo importante che dobbiamo portarci perché loro svolgono un ruolo importantissimo per noi col servizio, con la logistica, dicono anche con gli incassi, per cui evidentemente il rispetto del canale è, dobbiamo portarlo proprio dentro ed è un argomento importante. Noi crediamo di rispettarlo, parlo per il cemento, però è giusto. Questo sono sicuramente, è uno spunto importante che dobbiamo prendere. I rivenditori ce l'hanno con i produttori? Posso sì. Così hanno detto stamattina? Ma sì, ma io penso che questo sia un po' un'eredità del passato. Penso che il mondo della distribuzione e della produzione stiano andando sempre più a braccetto. quello che succedeva 10-20 anni fa oggi non succede più, senza fare uno spot per la nostra azienda. Nel 2019 abbiamo fatto un'acquisizione di un'azienda che faceva rinforzi strutturali e che vendeva il 10% attraverso la distribuzione e il 90% applicatori in cantiere. abbiamo fatto una roadmap, così l'abbiamo chiamata, e nel giro di 5 anni siamo arrivati al 70% attraverso la distribuzione. Essendo rinforzi strutturali c'è anche stato il 110% che ci ha dato una grandissima mano, però noi abbiamo trovato una distribuzione, come posso dire, pronta ad accettare le nostre proposte e penso che anche per loro sia stato più business in casa loro. Per cui io direi, sfatiamo questo luogo comune. Sono loro che l'hanno detto. Ma poi il punticino di sconto, la lite, ma quello fa parte della vita, fa parte del... Ma no, secondo me in questi anni c'è stato veramente un progresso reciproco per migliorare la, come posso dire, la supply chain e per arrivare in cantiere con prodotti di qualità al momento giusto. No, ma arrivare in cantiere sì, ma qual è la strada per arrivarci? Io 25 anni fa ho fatto un gruppo di lavoro, c'era anche qualcuno di voi che si chiamava vendere attraverso rivenditore. Sono passati 25 anni, qualche progresso l'abbiamo fatto, credo. Sentiamo... Guardi, noi siamo partiti negli anni Ottanta, eravamo un'azienda monoprodotto, un'azienda da sfuso e un'azienda da volumi, un'azienda il cui cliente principale era l'intonacatore e l'impresa. Siamo arrivati a 2024, dove la voce intonacatore è il 2% del fatturato, dove l'evoluzione del fatturato è direttamente proporzionale all'evoluzione dei rapporti. È un percorso, ovviamente lungo, non si rinnega il passato, però abbiamo ben chiaro dove vogliamo arrivare. Ci sono tantissimi rivenditori con cui abbiamo dei rapporti meravigliosi, ce ne sono alcuni con cui abbiamo della strada da fare, però è evidente che passare da azienda monoprodotto a azienda sistemista non lo fai da solo. Non avremmo mai avuto questi risultati se non con una rete distributiva a fianco. Che poi questo percorso sia ancora da sviluppare è in dubbio, però penso che i risultati che abbiamo avuti, anche e soprattutto dopo la pandemia, dove hanno potuto testare anche la potenza industriale avendo una domanda spropositata e riuscire comunque a servire i prodotti, devo dire che da lì in poi c'è stato un ulteriore click dove tanti rivenditori ci hanno aperto ancora un po' di più la porta. Logicamente da qua adesso dobbiamo lavorare, far tesoro di questo, e continuare soprattutto nel rapporto, nel dialogo, nella condivisione e proseguire questo rapporto che abbiamo iniziato. Grandicelli, cerco di sintetizzare. Voi chiedete ai rivenditori, dovete conoscere i nostri prodotti per venderli bene, giusto? Sì, ha ragione. Loro dicono però, sì, noi li conosciamo, poi voi andate a vendere da un'altra parte. Non è proprio così. Ho detto, ho parlato che giustamente i rivenditori devono conoscere bene il prodotto. Ma riguardo questa riflessione qui, poi me la sono fatta per me la domanda. Perché noi abbiamo, il nostro prodotto, noi facciamo trattamento delle acque. Ed è un materiale, se vogliamo, anche abbastanza innovativo come evoluzione di prodotti. C'è sempre stata la depurazione. Però negli ultimi anni è molto sentito per varie ragioni, per vari problemi. Il discorso, prima per rispondere alla domanda dei rivenditori. L'azienda nostra è un'azienda molto giovane, e quindi non abbiamo ancora una grande conoscenza verso questa platea. Abbiamo dei rivenditori con i quali abbiamo ottimi rapporti, ma il nostro scopo è quello di comunque allargare e di poter offrire i nostri prodotti un po' a tanti. Sono d'accordo per quello che diceva Noci, che diceva anche Bobbio. Milano non è Cremona e non è Roma. Ogni territorio ha delle proprie specificità e quindi è fondamentale per noi cercare di cogliere queste opportunità che solo attraverso la distribuzione locale o meglio ancora, non proprio la distribuzione, al nostro partner locale, di poter sviluppare, per poter arrivare nel mercato direttamente al cliente. Passando attraverso la comunicazione, noi attraverso i rivenditori e il rivenditore attraverso il cliente finale. Sapete che noi abbiamo fatto anche l'app itinerante, proprio per dare questo messaggio, che è un trailer, una mostra itinerante proprio. E quindi è proprio la comunicazione che vogliamo fare noi al mercato. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Vergani per DR. Quindi parliamo di chiusure per l'edilizia, essenzialmente di porte. Purtroppo, allo strutturino, purtroppo la cultura del mercato italiano è sempre stata quella di andare anche direttamente nel cantiere. Non possiamo negarlo. Ci sono aziende, negli anni passati, ma che ancora oggi ne fanno il loro core business. Se noi andiamo di là delle Alpi, in Svizzera o in Francia, non esiste in nessun caso che un cantiere, un'impresa di qualsiasi dimensione essa sia, compri il prodotto dal produttore direttamente e non dal rivenditore. Però c'hanno ragione. In parte assolutamente sì. Poi c'è un altro aspetto da considerare, ovviamente. Il primo aspetto fondamentale sarebbe questo. Se tutte le aziende andassero solo attraverso le rivendite, sarebbe meglio anche per il cantiere stesso, perché la logistica, i servizi, farli a 200 chilometri è molto più difficile che farli a 20, a 5 o a 6. Quindi c'è una tematica che sarebbe più conveniente anche per il cantiere stesso. Però poi bisogna giocare la stessa partita tutti, nel senso che se il mio competitor ovviamente mi aggredisce nel momento in cui il mercato cala sul cantiere, io poi gioco anche a carte non uguali. Certo, Burcanello. Faccio invece un assist a voi, perché molti si lamentano che sì, è vero, c'è questo problema come dire, distribuzione, produzione. Però è anche vero che i produttori si trovano di fronte, rispetto ad altri mercati, a un paese che ha una frammentazione distributiva ampia, che adesso si sta un po', come dire, coagulando attorno a alcuni poli, ma rimane comunque molto elevata. Ecco, questo per voi è un problema? Qual è il vostro approccio? Innanzitutto bisogna anche distinguere un poco da alcuni prodotti, perché esistono dei prodotti che sono difficilmente vendibili attraverso la distribuzione. Quando parlo di prodotti sintetici da impermeabilizzazione, tipo TPO e PVC, sui grossi cantieri, tipo le logistiche, eccetera, diventa difficile venderli attraverso la distribuzione. Quindi questo è già un problema. Sicuramente per quanto riguarda la frammentazione della distribuzione, soprattutto invece per altri prodotti tipo da isolamento termico, membrana bituminosa, liquidi, eccetera, il fatto di avere della frammentazione per noi aziende è un pochettino più difficile da affrontare. In questo momento che invece ci sono le aggregazioni sicuramente diventa più facile, perché comunque gli interlocutori riesci ad avere un interlocutore unico e poi questo interlocutore unico ti permette di essere presente nei punti vendita. Questo è un po' quello che pensiamo. Prego. Sì, prendere posizione qua è un casino, perché abbiamo i piccoli e i grandi, quindi è una domanda che lascerai agli altri. Noi diciamo che come cemento gradiamo entrambi, perché tutti e due i canali, se li consideriamo due canali diversi, hanno dei pro e dei contro. Noi siamo distribuiti in tutta Italia, oltre a una decina di cementerie, abbiamo messo 21 depositi di logistica solo per la rivendita, e quindi evidentemente la rivendita piccola, medio-piccola e i grandi gruppi. In questo momento qua, secondo il nostro modo di vedere, il cliente, non vediamo una grossa difficoltà né a seguire i grandi gruppi, dove magari ci confrontiamo su aspetti un pochettino più ampi, di carattere un pochettino più aulici, rispetto al piccolo, che è un valore, perché sul territorio è un valore, quando parliamo poi di edilizia, noi riconosciamo questo grande valore della presenza familiare, sentivo anche dei grandi gruppi, che vivono con grande passione. Poi io devo pensare che ho fatto un periodo come i talcementi, dove c'era la famiglia presente, anche se era una multinazionale, quindi il valore della famiglia ha un valore bellissimo, che ho vissuto, adesso è una multinazionale, quindi sto vivendo anche l'altro, però quindi questo aspetto qua mi sembra che sia un aspetto che caratterizza l'Italia. Essere distribuiti in questo modo qua fa anche parte poi del mercato a valle, perché loro qua in sala devono affrontare un mercato molto complicato, con risultati meravigliosi in questo periodo, non so in futuro, ma finora meravigliosi, e su questo aspetto qua credo che non ci siano, dal punto di vista del fornitore cemento, nessuna particolare predilezione per un gruppo o per l'altro. Non abbiamo notato. Da un punto di vista logistico però... No, perché la logistica non cambia, noi abbiamo un 21, non è che sono dedicati a un settore più l'altro, è fatto per venire incontro all'aspetto importante che 10 cementerie in tutta Italia non sono sufficienti per coprire tutto il percorso logistico, anche perché il costo logistico è importante. Giovannini, che ne pensa? Ma, diciamo, al di là della nostra azienda, il prodotto che si presta proprio per la natura del prodotto a essere portato in cantiere attraverso la distribuzione, anche noi abbiamo sette punti di produzione. Il tema, secondo me, in Italia è il solito. Abbiamo delle micro imprese di costruzione, delle mini imprese di costruzione e sono decine di migliaia e quindi abbiamo 5.000 rivendite per seguire il territorio, una marea diversa di modi di costruire, perché in Sicilia evidentemente si costruisce in maniera molto diversa da Milano o da Bolzano e quindi il rivenditore... Anche tra Napoli e Salerno. Tra Napoli e Salerno. Oggi ne abbiamo sentite un sacco veramente belle. Quindi, come posso dire, la presenza di punti vendita che selezionano l'offerta giusta e danno la consulenza giusta, lo stiamo dicendo da tanti anni, non solo il prodotto ma anche i servizi, investire dei servizi, secondo me il rivenditore oggi in Italia svolge una funzione sempre più importante. Chiaro è che come in tutto il mondo si stanno avendo dei forti processi di concentrazione nella distribuzione, nella produzione, ma anche nelle imprese stesse, guardiamo i campioni europei, le imprese, l'Italia, a parte WeBuild, ha imprese di costruzione molto piccole. Evidentemente questo è un processo che sta andando avanti dappertutto, però l'Italia è diversa, l'Italia ha una serie di situazioni geografiche diverse e quindi anche i piccoli, dove c'è un titolare brillante, abbiamo sentito prima Orazzi, cosa ha fatto con Forei di la Roma, come è riuscito a sfruttare un'opportunità, anche avere delle aziende piccole che però sono molto radicate al territorio, che conoscono molto bene i propri clienti con l'intelligenza naturale, non con l'intelligenza artificiale, ma sanno i bisogni e danno i servizi giusti, oggi in Italia è ancora un grande valore. Noi produttori siamo sempre a, come posso dire, tirati in mezzo fra grandi aziende o gruppi con punti vendita, tanti punti vendita, ma anche tante piccole realtà veramente brillanti e veramente forti sul territorio, che basano il loro valore aggiunto sulla conoscenza dei bisogni dei clienti e sulla conoscenza del modo di costruire locale. Lorenzo, fare 5.000 sconti diversi ad altrettanti rivenditori è complicato? Più che tanti rivenditori diversi parliamo di tante linee diverse, perché una volta dicevo avevamo solo un prodotto, adesso abbiamo 15 sistemi e quindi capisci che noi serviamo rivenditori edili, serviamo di varia dimensioni, piccoli, medi, grandi, grandissimi, specializzati, vendiamo anche sistemi a secco, rivenditori di ceramiche, colorifici e stiamo parlando veramente di un universo di dinamiche l'una diversa dall'altra. La cosa che stiamo notando non è tanto il grande e il piccolo, perché poi le dinamiche locali poi alla fine si riducono anche al cantiere, se vogliamo. La differenza vera la fa chi oggi si vuole evolvere, chi cerca qualità, chi cerca servizio chi investe, qui ci sono tantissime persone che investono soldi, tempo, questo farà la differenza, non tanto perché se uno è più o meno frazionato, più o meno piccolo, perché anche un rivenditore, lungimirante, che investe, che ricerca la qualità e il servizio può ottenere degli ottimi risultati, la differenza probabilmente la farà chi non ricerca questi valori da qua ai prossimi anni. Però la dimensione conta in questo. La dimensione conta, ma... Anche per lo sconto conta. Ma guardi, non in assoluto. Io penso che sia finita l'epoca dello sconto oggi, come diceva prima anche qualcuno. La dimensione è stata ufficiale. Niente più sconti. Non so cosa ne pensino in sala, però se si riducesse tutto uno sconto, i leader di mercato sarebbero le aziende che fanno il prezzo migliore. Non mi sembra sia così. Se io prendo le tre, quattro aziende leader di mercato, non mi sembrano le aziende che hanno il prezzo più basso. Bene. Grandicelli, rapporto tra, come dire, determinazione del prezzo e frammentazione del mercato? Ho sentito pochissimo oggi parlare del prezzo, solo dei prezzi, solo da alcuni per dire che non è quello che conta, non è il prezzo che fa la differenza per poter crescere. Il prezzo è un mezzo per poter essere competitivi, ma non essere aggressivi. Quello che è il valore aggiunto, ho sentito, mi sono fatto due o tre appunti, quello che ho percepito dalle rivendite che hanno parlato, hanno parlato in tanti di formazione del personale, delle strategie di prodotto e quello che non è importante, bisogna stare attenti a non vedere le crescite del fatturato in funzione della crescita del mercato, ma bensì uno deve fare un'analisi specialmente proprio sui prodotti. qui non c'è una distinzione, ritengo che non ci sia una distinzione tra azienda piccola e azienda grande, perché queste cose qui poi ognuno le vede, è una politica proprio dell'azienda stessa, una strategia di quello che uno vuole fare una rivendita, certo che se questa strategia è condivisa in un'aggregazione è certamente dirompente, perché si muove un esercito, un esercito e quindi è decisamente superiore questa cosa qui. Però altre cose, noi in tutto questo proprio per appoggiare, per dare il nostro supporto è quello che come azienda, noi come Star Plus facciamo questo mestiere, noi la mattina ci alziamo e pensiamo all'acqua di come poter dare delle soluzioni innovative di come poter cercare di fare un impianto performante, noi non siamo quelli che vogliamo vendere una IMOF ma siamo quelli che vogliamo dire come diceva Bobbio, non dobbiamo vedere il trapano per fare il foro ma bensì qual è la soluzione che dobbiamo dare al cliente per poter fare un impianto di una buona gestione delle acque, di un recupero sano, intelligente dell'acqua perché comunque è il bene indispensabile come cita il nostro motto risparmio al tuoro blu che oggi lo è certamente ancora più importante. Bergani, tutti hanno le porte ma vendere porte significa anche avere uno showroom, avere una certa dimensione? Corretto, infatti diciamo che il reddito eredile di oggi secondo me è già l'evoluzione ovviamente del mercato, chi è qua oggi è già strutturato con uno showroom un magazzino è già orientato alla vendita del prodotto porta quindi per noi è interessante ovviamente si tratta poi di identificare nella zona la strategia insomma questi fattori ma non il piccolo e grande per noi cambia ben poco perché noi siamo un'azienda che produce tutto da zero quindi consegnare produrre una porta o farne 100 non è affatto una difficoltà sì però venderle è un'altra ma infatti è questo che dicevo prima nel senso che ovviamente noi non nascondiamo che da settembre ci sia stato un calo abbastanza significativo delle commesse riguardo la porta blindata principalmente stiamo parlando e quindi diciamo che questa altalena dall'anno scorso a quest'anno la stiamo soffrendo nel senso positivo del termine cioè perché poi è facile dire tutti eh ma si sapeva che super bonus sì eravamo tutti dei drogati ma la droga era buona quindi adesso diciamo che fare l'astinenza diventa anche un po' difficile poi sarebbe un discorso anche un po' più come dire lungo facciamo invece un giro su quelle che pensate siano le prospettive per l'anno prossimo come la vedete noi a parte l'ottimismo come dire di facciata della pupa è lì dovete parlare con lui a parte l'ottimismo non dico di facciata però che dobbiamo avere tutti in quanto imprenditori quindi un imprenditore per definizione non può essere pessimista se no dovrebbe fare un altro lavoro bisogna essere realisti però in questo momento le commesse calano gennaio febbraio marzo io non è che la vedo così bene vabbè però diciamo questi sono anche cicli guardiamo è vero diciamo che nel lungo periodo ci sarà una stabilizzazione che nessuno secondo me oggi può identificare perché è troppo rapido il cambiamento è troppo rapido tutto quello che gira attorno al nostro mercato voi invece di galleggiare vi sentite affondare no affondare no però vediamo cerchiamo di guardare più in là e diciamo ci poniamo delle domande dove facciamo fatica a darci le risposte nel lungo periodo dovete incentivare un po' di ladri in giro diciamo che l'Italia è stato il paese precursore in questo e per questo che la porta blindata è nata in Italia ho una porta blindata a DR complimenti Grudicelli come la vede? ma guardi visto che si parlava di galleggiare di acqua che è il nostro mondo io direi che abbiamo le vele tutte gonfie abbiamo le vele gonfie perché prima cosa siamo positivi perché dobbiamo pensare positivo l'ho sempre detto ed è fondamentale questo il mondo delle acque è un mondo incredibilmente in crescita è una sicuramente un'opportunità che dovremmo cavalcare tutti in particolare si parlava stamattina di rivendite che devono vedere al di là di quello che possono essere iniziative per poter inserire nuove tecnologie nuovi processi noi vogliamo offrire non come dicevo non la vendita del prodotto ma bensì supportarli per un sistema per poter arrivare anche a grandi cantieri perché spesso capita ci sono si parlava del cliente si parlavano dell'importanza di come bisogna mantenere un cliente l'edilizia si presenta nell'abitazione nella costruzione di un edificio ma se proviamo a pensare quante cose si possono offrire che uno non conosce e questo qui spetta a noi cercare di trasmettere questa cultura alle rivendite e così per poter avere questa opportunità che ci possono essere tante possibilità dallo scarico al trattamento al recupero delle acque grigie e tante altre cose Lorenzi ma io ho trovato l'analisi del mercato dei numeri veramente molto aderente a quello che è la nostra esperienza sì sì no devo dire salvagente c'è assolutamente poi è chiaro che a seconda della classe merceologica a grandi numeri direi che è veramente un'analisi che mi sento di condividere praticamente in pieno poi è chiaro che se si scende nella macro famiglia allora lì ci possono essere all'interno delle dinamiche un po' diverse per esempio la linea dei sistemi di isolamento termico capotto piuttosto che del rinforzo strutturale potrebbe avere un andamento leggermente diverso questi ultimi quattro diciamo fino a dicembre marzo 25 poi c'è il terremoto no no poi direi che la la negatività maggiore in realtà penso l'abbiamo già vista se devo dire la verità su queste famiglie qua probabilmente ci sarà un continuo giustamente sono proprio d'accordo un atterraggio no e poi per altre famiglie come può essere anche il sistema secco per esempio dove già i sistemi costruttivi ormai si sono evoluti continuano evolversi ci saranno tendenze magari diverse il mercato base dei premiscelati non vediamo che ci siano particolarmente particolare criticità c'è sempre un grande punto di domanda sull'andamento dei prezzi delle materie prime quello secondo me può essere un interrogativo ma perché possono esserci degli eventi anche esterni come è già successo in passata se come è già successo in Ucraina ci sono degli eventi per cui il petrolio schizza l'inflazione schizza e chiaramente poi queste cose sono non prevedibili però te le ritrovi a gestire quindi ecco perché dico un punto di domanda e siamo in un periodo dove effettivamente non è improbabile che succeda però per il resto devo dire veramente che mi trovo proprio molto d'accordo su tutto quello che è stato presentato veramente Giovannini lei è ottimista per forza perché avete fatto il rebranding risistemato tutto in azienda quindi significa guardare avanti ottimista ma anche un po' realista i numeri che ci hanno fatto vedere e come posso dire il metadone è stato definito del PNRR va capito bene perché una grande parte degli investimenti del PNRR va nell'ambito ferroviario ANAS e autostrade che in realtà è un po' staccato dal PNRR ma stanno investendo tanto quanti di voi fornisce ANAS autostrade RFI pochi è un mercato beh lei si lo so e si lo so ma non era per cui dal punto di vista della rivendita una bella fetta di quel PNRR non c'è l'altra parte del PNRR che c'è ed è abbastanza cospicua però è un po' diversa rispetto al classico cappotto fatto col 110% è un po' più complessa da agganciare è piena di certificati capitolati quindi secondo me tutti i rivenditori qua presenti hanno la possibilità di agganciare un po' di PNRR ma probabilmente secondo la mia modesta opinione devono andare a braccetto con qualche azienda perché è un po' più complicato a me è piaciuto molto la slide del prof della Puppa quando si vede la ciccia che abbiamo avuto dal 2022 e dal 2023 tutti direi abbiamo mangiato tanto dove è finita questa ciccia sulla pancia o abbiamo dei muscoli dove abbiamo investito che strategia ho fatto nella mia rivendita ho investito per rinforzarmi con nuovi punti vendita tanti l'hanno fatto ho investito e secondo me questa è una tematica su cui ragionare molto in servizi l'ultimo prof ci ha parlato molto di servizi e i servizi non sono solo nuove merceologie anzi non sono nuove merceologie ma sono cose da fare in più per dare valore aggiunto al nostro cliente per prenderci una parte del valore aggiunto ho investito in logistica oppure ho investito anche in magari produttività razionalizzazione efficienza perché non è detto che la strategia del prezzo competitivo non funzioni anche nei prossimi anni però devo aver investito perché se non ho investito il mio bel EBITDA diventa piccolo quindi io sono positivo per le rivendite le aziende di distribuzione che in questi anni hanno usato la ciccia per investire ognuno con la propria strategia ecco un po' meno positivo per chi è stato seduto dietro il proprio bancone aspettando che entrasse qualcuno a chiedergli isolanti quando e questo diciamo rivenditore old style immagino possa diventare come posso dire un'opportunità per chi si vuole allargare per chi si vuole crescere o magari per un cambio di generazione per l'adesione a qualche gruppo e a qualche novità il mercato ci sarà sarà un po' più complicato per cui bisognerà essere un po' più smart per andare a prenderselo Roncan voi siete a posto e avete il ponte di Messina i prossimi anni abbiamo chiuso una cementeria 15 anni fa e ci hanno detto ma siete matti per partire il ponte e quindi se aspettassimo i grandi lavori saremmo fregati allora una cosa devo dire per capire quello che vi sto dicendo noi come cemento non abbiamo avuto andamenti straordinari dal punto di vista dei volumi però vi porto all'esperienza nostra straordinaria in termini di risultato questo per dire che non è detto che il volume che attendiamo sul residenziale avete alzato i prezzi avete alzato i prezzi abbiamo lavorato sulla redditività si si dice così si può parlare di costi fissi no 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 mi spiace perché costi fissi siamo tutti costi fissi qua a parte i proprietari per cui è sempre brutto parlarne però evidentemente la razionalizzazione abbiamo chiuso degli impianti abbiamo fatto delle scelte abbastanza drastiche però da questo punto di vista perché oggi avete sentito il tedesco occhio perché i tedeschi dicono le cose belle le cose brutte l'ho imparato con lo stesso animo il nostro amministratore delegato quando ci comprò disse perdete milioni così adesso l'ultima volta ha detto abbiamo guadagnato 3 miliardi di utili netto sembrava una forma quindi in Germania merda scusate il termine in Germania in Francia in Inghilterra nel nord Europa il residenziale è nei guai non dovevo dirlo questo doveva essere l'ottimismo e lo vivono con questo atteggiamento però noi per esempio come cemento non abbiamo avuto abbiamo visto la rivendita e siamo contentissimi che vadano benissimo però noi non abbiamo avuto la spinta dei volumi l'avremo adesso probabilmente col pianeta perché noi lì facciamo i grandi volumi e quindi ci aspettiamo un andamento sicuramente diverso ma su residenziale quindi gli inviti di stamattina io li colgo tutti di stare molto attenti diciamo agli investimenti alla parte finanziaria e alla redditività perché se dovesse ci auguriamo di no siamo considerati il paese più fortunato d'Europa grazie agli investimenti che comunque non sono sulle grandi opere ma arrivano anche nei comuni come dicevano stamattina però bisogna stare veramente accorti attenti in questa fase qua perché con i volumi sono buoni tutti sono buoni tutti con i volumi a parte il ponte Messina PNRR noi ne abbiamo sì 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 abbiamo delle richieste veramente importanti però parliamo di prodotti sfusi che diciamo in questo momento su questo canale che abbiamo oggi qua di fronte magari impatteranno meno magari la parte sui comuni sì però su residenziali per esempio il collega laggiù che lavorava sulle porte evidentemente non si può non negare che lì tutta Europa e anche le nostre previsioni sono negative ci sono degli altri comparti che vanno Brocanello ci dica che cosa farà l'anno prossimo noi come Soprema abbiamo tanti prodotti e quindi anche diverse distribuzioni quindi anche noi sul PNRR ci siamo perché comunque produciamo manti per l'imperimentazione delle gallerie manti per l'imperimentazione dei viadotti eccetera e quindi tutta questa cosa qua ci dà sicuramente una mano sono d'accordo anch'io che sul residenziale invece dove produciamo i prodotti per isolamento termico sicuramente lì c'è molta più fatica però io il budget ho già fatto il budget perché noi essendo una multinazionale i budget li fanno fare a settembre penso che tutti siamo a settembre piccolo budget fai prima il forecast di arrivo e poi fai il budget già e ho fatto un budget praticamente con gli stessi risultati di quest'anno quindi secondo me voglio dire è una cosa positiva come diceva Federico alla fine riuscire a fare gli stessi numeri che facciamo quest'anno secondo me è molto positivo poi sono d'accordo anch'io dipenderà tutto dalle materie prime perché se le materie prime aumentano logicamente voglio dire tutti quanti dovremmo aumentare i prezzi e quindi a livello di fatturato fatturato aumenterà però io siccome in questi momenti qua secondo me bisogna guardare i volumi non il fatturato perché con questo andamento così un po' isterico di determinati prodotti io ho fatto il budget con gli stessi volumi di quest'anno ottimo chiudiamo con l'ottimismo io ringrazio i partecipanti al talk ringraziamo Virginia Gambino editore che ha organizzato ora è il momento della forchetta del coltello chi deve andare e si è iscritto ai learning party va nella clubhouse e gli altri invece vanno al ristorante che ci sta fuori ok grazie e ci rivediamo l'anno prossimo è è Grazie per la visione!